Meno progetti, più fatti. Dignità per Via Longo, recita così lo striscione esposto da qualche giorno su uno dei balconi delle case comunali di Via Longo dagli esponenti della Casa del Popolo. Del progetto di riqualificazione di queste palazzine popolari se ne parla ormai da 15 anni. Sono state messe a punto e presentate pubblicamente dalle amministrazioni che si sono susseguite in questi anni, progettazioni milionarie, futuristiche, ma poi nulla è mai avvenuto in concreto. Casa del Popolo ha raccolto l'appello di una residente del degradato quartiere all'ingresso della città. Lo ha fatto proprio per ricordare a tutti la difficile situazione di chi è rimasto a vivere in quell'abbandono. Via Longo è terra di nessuno, scrive una cittadina. Quando mi chiedono dove abito, rispondo con orgoglio Via Longo, perché sì, è ancora abitata e viva, anche se ogni giorno bisogna convivere con quel che resta del quartiere. I portoni rotti, le tettoie fatiscenti con il cemento a vista sono un pericolo per i passanti. E se qualcuno dei numerosi anziani ha bisogno di un'ambulanza, bisogna fare i salti mortali, specialmente se abita agli ultimi piani e senza ascensore. Tante ferite che fanno male e costantemente segnalate all'amministrazione con foto e video, ma puntualmente ignorate. Via Longo è come un organo malato vicino al cuore della città. Via Longo è terra di nessuno, con i suoi abitanti invisibili. Casa del Popolo intende fare da megafono a questa richiesta legittima di aiuto, condivisa da tanti altri cittadini terramani, rimasti ingabbiati in queste palazzine indecenti. L'amministrazione comunale, sperano gli esponenti dell'associazione, non potrà rimanere ancora immobile di fronte a segnalazioni così puntuali. E utilizzando lo slogan elettorale dell'attuale sindaco di Teramo, Gianguido d'Alberto, lanciano una provocazione. D'altronde lo hanno detto loro. Insieme possiamo o no?